Cresce il numero delle iscrizioni annuali al servizio di collocamento disabili della provincia di Lecco. Nel 2019 si sono iscritte 778 persone, 50 in più rispetto al 2018, il 95% delle quali appartiene alla categoria degli invalidi civili. Un trend che si conferma di anno in anno. Dal 2008 gli iscritti nelle specifiche liste di collocamento sono costantemente aumentati, passando da 1260 a 2614 nel 2019. Il 64% del totale degli iscritti ha un'età superiore ai 45 anni e il livello di istruzione più diffuso è quello corrispondente alla scuola media inferiore. Anche il numero di persone avviate al lavoro ha registrato un progressivo incremento nel medio-lungo periodo raggiungendo nell'ultimo anno le 554 unità. In aggiunta sono stati registrati 324 inserimenti attraverso patti di adozione lavorativa e sono state stipulate 317 convenzioni, 296 con le aziende e 21 con le cooperative sociali che hanno permesso l'assunzione di 38 disabili. Attivati anche 501 tirocini extracurriculari in diverse realtà pubbliche e private. Da sottolineare che in questi anni per 125 persone iscritte ai tirocini di adozione per lavoratori più difficilmente collocabili è stato possibile accedere ad un'assunzione. Rilevante anche il dato riguardante le fasce deboli, 95 le nuove iscrizioni, 80 i tirocini avviati e 25 le assunzioni concordate con le aziende. Nel 2019 si sono raggiunte interessanti performance pur in un percorso generale non semplice commenta il consigliere provinciale delegato ai centri per l'impiego Giuseppe Scaccabarozzi. Questi primi mesi del 2020 iniziati con l'emergenza coronavirus invece hanno comportato gravi disagi all'utenza più fragile. Il collocamento mirato della provincia di Lecco ha però garantito la continuità di tutti i servizi fondamentali permettendo agli utenti di mantenere un contatto diretto e costante con gli operatori del servizio.